Buonasera, buonasera e bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Restart in diretta dagli studi dell'Università Niccolò Cusano pronti per tirare le somme perché siamo arrivati alla fine di questa, potremmo dire, prima stagione ma in realtà di questa prima parte, l'ultima puntata dell'anno, ci faremo gli agori di Natale questo Natale che sarà diverso ma non è detto che non sia più profondo, anzi forse sarà proprio così noi per quest'ultima puntata, soprattutto per questa prima mezz'ora insieme, vorremmo fare una specie di servizio pubblico un momento di servizio pubblico ma anche tirare le somme, le somme di un anno particolare un anno in cui la pandemia e l'emergenza sanitaria hanno dominato che però è forse appunto questa emergenza ci ha fatto un attimo dimenticare, mettere da parte, nascondere quelli che invece sono i problemi comuni, i problemi di tutti i giorni parleremo oggi di diritti umani, quando si parla poi di violazione dei diritti umani molto spesso la nostra mente viaggia, va lontano, va in posti molto appunto lontani dalla nostra realtà invece noi restiamo in Europa perché quest'anno è stato segnato da diversi episodi diversi episodi che hanno fatto discutere la comunità internazionale il primo caso è il caso della Bielorussia che da ormai oltre per il quinto mese consecutivo dalle elezioni che ci sono state lo scorso 9 agosto sono in corso proteste di massa contro il presidente in carica Aleksandr Lukashenko che sarebbe in corsa per il sesto mandato di fila Lukashenko è al potere in Bielorussia dal 94 le proteste che sono partite appunto da agosto contro la vittoria di Lukashenko una vittoria che è stata giudicata falsificata le proteste sono in corso da ormai mesi queste proteste sono state represse in maniera molto violenta e sono state incarcerate ad oggi secondo il centro belorussio per i diritti umani sono state arrestate oltre pensate 30.000 persone 14.000 soltanto nel mese di novembre però noi oggi non vado oltre vado subito anzi a presentarvi il nostro ospite con cui parleremo di questa situazione è Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia buonasera Riccardo, grazie per aver accettato il nostro invito buonasera, grazie a voi allora Riccardo vi tornano anche a voi questi numeri che ho detto 30.000 persone incarcerate da agosto 14.000 solo a novembre sì, sono numeri che testimoniano di una repressione senza precedenti in Bielorussia nata dalle proteste iniziate ad agosto quando il presidente Lukashenko ha cercato con una elezione giudicata da molti irregolare di assicurarsi il sesto mandato consecutivo come presidente della Bielorussia non è stata la prima volta che in Bielorussia si è sceso in piazza a seguito di elezioni contestate ma negli anni precedenti, nelle opressioni precedenti si era trattato di piccoli gruppi legati al dissenso politico qui da quattro mesi siamo di fronte a proteste di massa che hanno provocato quella reazione durissima delle autorità fatta di decine di migliaia di arresti fatta di una campagna di torture soprattutto nel mese di agosto e che ha costretto la dirigenza politica dell'opposizione a riparare all'estero per evitare gli arresti anche se alcuni dei leader dell'opposizione sono tuttora gli arresti Ecco, ora ci arriviamo subito alle leader di opposizione perché tu hai detto una cosa importante anche non è la prima protesta che vediamo in Bielorussia bisogna poi sottolineare che i bielorussi come popolazione è una popolazione molto pacifica che non è solita fare queste cose però a differenza degli altri anni, degli anni passati questo sdegno verso il risultato delle elezioni del 9 agosto ha unito tutte le categorie della società passiamo dagli studenti ai pensionati donne e uomini persone più abbienti e persone meno abbienti e questo è un fatto anche in un certo senso storico per il paese è vero, siamo di fronte a una protesta senza precedenti aggiungo alle categorie che si sono ribellate all'esito delle elezioni del 9 agosto anche gli operai, delle fabbriche, delle industrie e questo per un leadership che sostiene di stare dalla parte dei lavoratori è stato un enorme smacco e quindi è difficile capire chi è ancora in bielorussia si fidi del presidente Lukashenko certo Lukashenko infatti è stato definito l'ultimo dittatore d'Europa è così? beh, se consideriamo le violazioni dei diritti umani diffuse, ripetute, sistematiche negli ultimi 26 anni col peggioramento d'agosto a questa parte sì, voglio anche ricordare una eccezione della bielorussia in Europa è l'unico paese che mantiene la pena di morte e la applica ogni anno più o meno con alcune esecuzioni volte in gran segreto quindi forse basterebbe questa anomalia della pena di morte per dare ragione alla definizione che hai dato ora arriviamo a parlare appunto dell'opposizione perché l'opposizione a Lukashenko in queste elezioni è stata guidata da tre donne tre donne, alcune, due delle quali non avevano mai avuto niente a che fare con la politica stiamo parlando di Svetlana Tikhanoskaya Veronica Zeplako e Maria Kolejnikova ora la Kolejnikova, come dicevi tu è tuttora detenuta in Bielorussia mentre Svetlana Kinayoskaya è in esilio in esilio e poi queste tre donne sono state premiate l'opposizione bielorussa è stata premiata con il premio Sakharov consegnato una settimana fa lo scorso 16 dicembre se non sbaglio dal Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che significato ha questo premio a queste donne? è un premio molto importante ogni anno il Parlamento Europeo lo conferisce a persone che hanno svolto un ruolo di protagoniste nella difesa dei diritti nella richiesta dei diritti queste tre donne hanno mostrato ognuno a suo modo un coraggio straordinario anche perché erano impreparate a questo scenario hanno deciso di entrare nella competizione elettorale semplicemente perché i loro mariti che erano candidati sono stati messi fuori gioco quindi hanno deciso loro di scendere in campo come si dice e non sono scese solo in campo dal punto di vista della competizione elettorale ma hanno un ruolo importante anche adesso perché guidano dall'esilio in buona parte la protesta hanno assunto un ruolo iconico vorrei dire insomma sono un punto di riferimento per l'opposizione per coloro che scendono in piazza in Bielorussia e credo che quel premio Sacro abbia dato loro ulteriore credibilità e un ruolo nel futuro della Bielorussia come hai detto tu appunto loro stanno continuando a portare avanti questa battaglia anche dall'esilio ma non c'è il rischio che possa cadere insomma che questa l'esilio possa poi diventare una trappola per portare queste donne a essere permanente oppositrici in esilio e quindi più o meno fare la fine anche del leader dell'opposizione venezuelana c'è questo rischio che questa protesta finisca in un vicolo cieco? Ma il timore che finisca in un vicolo cieco c'è soprattutto dal punto di vista della violenza perché lì è evidente che in Bielorussia qualcuno deve fare un passo indietro e gli attivisti le attiviste quelli che scendono in piazza il passo indietro non vogliono farlo e hanno anche ragione chi deve fare il passo indietro è la violenza e la repressione di Stato dopodiché per rispondere alla tua domanda è evidente che non può esserci una condizione permanente di guida o di pretesa della guida di un paese dall'esilio e quindi è una situazione che nel modo io auspico più pacifico possibile deve risolversi per consentire a queste leader di tornare dall'esilio a quelle che sono in carcere di essere scarcerate e di avere appunto una soluzione pacifica e negoziata per quello che verrà L'Unione Europea oltre al premio ha anche approvato delle sanzioni come divieto di viaggio e congelamento dei beni di alcuni dei responsabili dei sopprusi in Bielorussia ma è sufficiente questo? L'Europa potrebbe fare di più o è troppo difficile entrare in questa situazione intervenire per via dell'influenza russa? Di questo fattore bisogna tenere conto perché quando prima dicevo io non so più chi si fidi di Lukashenko in Bielorussia il sottinteso era che però qualcuno lo dice In Russia si fida di lui Sì ma è una fiducia critica nel senso che è evidente che il presidente russo Putin ha un'enorme influenza sul futuro di quel paese e questo condiziona anche l'atteggiamento dell'Unione Europea che comunque con queste sanzioni mirate che hanno tra l'altro escluso Lukashenko vuole tenere in piedi un dialogo non tanto a Minsk in Bielorussia quanto con Putin è inevitabile insomma che il presidente russo ha acquistato un potere contrattuale negoziale sul futuro di ampie zone del mondo non solo in Europa penso la Siria penso la Libia e quindi come dire è un po' un partner obbligato di una soluzione se poi si cerca una soluzione di diverso tipo che porti anche degli scenari violenti questo per me sarebbe un profondo ora Riccardo io vorrei entrare nello specifico per far capire davvero qual è la situazione in questo paese perché tutti noi abbiamo visto le immagini delle proteste di come venivano duramente represse pensate che ci sono stati anche dei morti poi le proteste erano assolutamente pacifiche non è successo come magari succede in Italia che c'è sempre magari un cane sciolto o quello un po' più bellicoso che dà fuoco a un cassonetto che rompe una macchina allora questo in Bielorussia non è successo le proteste sono state assolutamente pacifiche eppure sono state represse in modo molto molto violento io ho sentito e confermami tu per quello che sai che in Bielorussia è vietato assembrarsi e non per questioni coronavirus cioè il coronavirus ha sicuramente fatto la sua parte ma c'è questo divieto di assembramenti chiamiamolo così da diversi anni nel senso che per organizzare una manifestazione si fa una richiesta come si fanno anche nel nostro paese però questa richiesta quasi mai viene accolta è così? eh sì ma questo è nella logica di un regime autoritario che cerca di evitare con norme molto rigide che le piazze si riempiano di oppositori dissidenti quindi è evidente stando alle leggi bielorusse che queste manifestazioni sono arbitrariamente sottolineo illegali e quindi da un punto di vista del diritto della Bielorussia la polizia ha il compito è legittimata a scioglierle però è chiaro che qui siamo di fronte a un pretesto quello che è evidente è che queste manifestazioni sono state in larghissima parte pacifiche perché tra l'altro c'erano anche più generazioni in piazza c'erano c'erano gli anziani c'erano delle persone di 60 70 anche 80 anni in piazza queste hanno avuto anche un ruolo come dire di pacificatore no? e sono state arrestate a loro volta ora per il regime di Lukashenko la cosa peggiore lo scenario peggiore è manifestazioni di massa pacifiche perché essendo così pacifiche non può neanche calcare la mano fino in fondo voglio dire non potrà mai accadere che apriranno il fuoco sparando discriminatamente sulla folla facendo centinaia di vittime questo in Europa non può succedere e io spero che non succederà mai per fortuna vorrei sottoporvi anche a chi ci sta ascoltando anche altre notizie che arrivano allora per farvi sempre intendere che tipo di repressione viene attuato in questo paese non c'è internet il weekend a volte viene staccato anche perché forse è stato notato come internet e i social hanno fatto hanno fatto veicolare tutte queste queste immagini e ha proprio il messaggio delle delle proteste Lukashenko quando è stato eletto ha cambiato la bandiera ha cambiato la bandiera del paese infatti è vietato vestirsi con gli stessi con i colori della bandiera che è stata cambiata così come è vietato applaudire senza motivo perché questo perché quando dicevamo le proteste fatte nel passato si limitavano le persone ad andare in strada suonare i clacson e applaudire quindi alla fine si è intervenuti con una legge che vieta di applaudire senza motivo per non parlare dell'informazione come l'informazione veicolata attraverso i canali ufficiali i giornalisti stranieri non sono ammessi non tutti insomma soltanto determinate persone ma Riccardo come possiamo immaginare però il futuro della Bielorussia andrà avanti questa protesta avrà un successo come dicevo prima le persone che sono scese in piazza ad agosto intendono farlo ancora ogni domenica accade e ogni domenica c'è questa modalità di piazze pacifiche intervento repressivo delle forze di polizia arresti hai ricordato tu che ci sono stati anche alcuni alcuni morti pestaggi in piazza e nei momenti successivi all'arresto quindi questo scenario andrà certamente avanti come dicevo prima bisogna che dall'altra parte si faccia un passo indietro ora non aspetta un'organizzazione per i diritti umani individuare la soluzione politica di tutto questo noi ci preoccupiamo che ci sia uno sviluppo pacifico negoziato e che se il presidente Lukashenko si renderà conto che la situazione non è più governabile prendere le decisioni nell'interesse del paese di cui è presidente che possano essere nuove elezioni un passaggio di poteri di missioni quello che sarà io non posso dire che cosa accadrà però io immagino che sia all'interno di queste opzioni comunque immagini che un processo di cambiamento sia avviato c'è una speranza no? almeno questo è quello che volevo capire da voi da te sì non si torna indietro nel momento in cui milioni di persone nel giro di agosto cos'è agosto settembre ottobre cinque mesi milioni di persone scendono e riscendono in piazza è chiaro che il cambiamento è avviato Riccardo voi come Amnesty avete anche denunciato il rischio insomma di violare i diritti umani proprio a causa della pandemia soprattutto nell'Europa dell'Est è così? Sì questo è un tema è un tema globale in 60 paesi secondo le nostre ricerche la pandemia è stata utilizzata per compiere arresti vietare manifestazioni processare e condannare chi aveva messo in dubbio la risposta ufficiale l'efficacia della risposta ufficiale alla pandemia per introdurre nuove leggi repressive contro la libertà di stampa e questo è accaduto anche in Europa soprattutto per quanto riguarda l'Ungheria dove il Presidente Orbán approfittando della pandemia ha come dire portato a termine il suo disegno di conquista totale dei poteri pur in un contesto formalmente democratico perché un Parlamento è una funzione però evidente che la pandemia gli ha fatto gli ha dato un grande vantaggio e i provvedimenti che sono stati presi peraltro non hanno niente a che fare con la pandemia perché hanno riguardato ad esempio il fatto che non si possa cambiare sesso perché quello alla nascita è garantito dalla Costituzione può ad esempio che non si possano adottare figli da parte delle coppie omosessuali di cosa c'entra tutto questo con la pandemia ecco e se non sbaglio anche il partito di governo in Polonia pronta una legge che vieterebbe ogni evento pubblico di delle associazioni LGBT è così anche perché in Polonia che cosa sta succedendo ed era il secondo capitolo che volevo affrontare affrontare con te anche in Polonia abbiamo delle donne che sono scese in piazza che portano avanti una protesta una protesta contro una proposta venuta dal partito di maggioranza che riguarda la legge sull'aborto secondo cui una donna non può abortire se porta in grembo un feto destinato a un feto con gravi malformazioni le donne sono scese in piazza e anche qui le proteste sono state represse in maniera violenta sono due aspetti gli attacchi alle comunità LGBT e gli attacchi alle donne che fanno parte di un'unica strategia del potere in Polonia dell'uomo forte Kaczynski della Corte Suprema che di fatto è un organo che ha perso ogni indipendenza ed è un organo che ratifica la volontà di chi ha il potere in Polonia ci sono diverse decine di città che rivendicano orgogliosamente di essere libere dalla cultura LGBT come se uno si fosse liberato dalla pandemia e avesse contagi zero ecco per considerare un contagio la rivendicazione di diritti da parte della comunità LGBT pone la Polonia veramente fuori dai valori costitutivi dell'Unione dell'Unione Europea e poi non da oggi c'è questa offensiva contro i diritti delle donne che ha visto di nuovo il partito al potere chiedere una riforma della già rigidissima legislazione nel tema di aborto la Corte Suprema gli ha dato ragione e quindi in teoria il terzo dei tre motivi per cui in Polonia si potrebbe ancora abortire cioè la malformazione del feto che è la causa principale è in discussione questo ha scatenato proteste enormi da parte delle donne ma non solo delle donne in Polonia ma certamente guardate queste immagini sono davvero suggestive e fanno impressione perché poi sono in un periodo in cui comunque neanche quel paese è fuori dalla pandemia ma evidentemente l'urgenza è sentita così tanto ma del resto i dati lo dicono chiaramente la legge attuale in Polonia fa sì che poche migliaia donne all'anno possano abortire il risultato è che ci sono 150.000 aborti che vengono fatti clandestinamente dunque mettendo a rischio la vita delle donne o fatti all'estero perché se non riesci a farlo nel tuo paese devi andare fuori ecco e questo è il risvolto più preoccupante Riccardo abbiamo davvero pochissimi minuti a nostra disposizione però prima di salutarci andiamo un attimo oltre i confini europei dobbiamo andare necessariamente in Egitto dove da oltre due mesi è detenuto Patrick Giorzaki che è anche un vostro attivista studente egiziano che però studiava all'università all'università di Bologna Patrick ha avuto un incontro con la madre qualche giorno fa che cosa è emerso da questo incontro? Cito le sue parole esausto e depresso una situazione dunque psicofisica molto preoccupante Patrick da quando è stato arrestato dorme sul materasso senza un materasso nella sua cella per terra è angosciato dal fatto che non saprà cosa accadrà di lui perché questa detenzione preventiva si protrae costantemente mentre il master a cui era iscritto a Bologna è entrato nel secondo anno di corso e quindi è veramente urgente abbiamo fatto anche un appello in questi giorni al ministro degli esteri Di Maio che ha detto e siamo felici che l'abbia detto che la storia di Patrick è anche quella di un è una storia che riguarda anche l'Italia per il fatto che è studente dell'università di Bologna ci auguriamo che venga rilasciato al più presto è una storia che riguarda un'altra storia che riguarda l'Italia e tocca anche l'Egitto e la vicenda di Giulio Giulio Reggeni a che punto siamo lì siamo al punto che nel 2021 ci sarà un processo in Italia grazie al lavoro enorme fatto dalla Procura di Roma che vedrà imputati quattro funzionali dello Stato egiziano in assenza o in presenza non si sa questo dipenderà dalla volontà delle autorità egiziane di metterli o meno a disposizione del processo in Italia e quando sarà così alla fine di tutti i gradi di giudizio io immagino che avremo una verità giudiziaria che coinciderà con quello che abbiamo sempre sostenuto e cioè che si è trattato nel 2016 di un delitto di Stato Per concludere rapidamente che cosa ne pensi del premio della legione d'onore che Macron ha dato ad Al Sisi? È stato forse il gesto più brutto dell'anno e dirlo in un anno di pandemia mondiale è davvero è davvero forte ti capisco benissimo Riccardo grazie mille Riccardo Nuri di portavoce di Amnesty International Italia grazie perché davvero abbiamo capito abbiamo affrontato insieme delle tematiche molto importanti che a volte si dimenticano l'importanza dei diritti umani e dei diritti civili grazie Riccardo buona serata e buon lavoro grazie buonasera a te buon lavoro bene grazie a voi per averci seguito spero di avervi fatto capire con il supporto di Riccardo Nuri e di Amnesty che situazione che cosa succede all'infuori dei nostri confini nazionali che cosa succede all'infuori di questa pandemia che forse che forse senza forse è diventata protagonista delle nostre giornate ma purtroppo ci sono tante altre questioni che non bisogna tralasciare andiamo un paio di minuti in pausa e torniamo tra pochissimo con le nostre rubriche del giovedì a tra poco ed eccoci tornati dopo pochissimi minuti di pubblicità come vi avevamo anticipato grazie a Daniele Ricciuto che oggi mi guida in regia e guida tutto il comparto tecnico abbiamo parlato di diritti nella prima parte di diritti umani adesso parleremo di ambiente perché il giovedì la nostra prima parte della seconda parte che passeremo insieme è dedicata al Green e ne parleremo con il nostro ospite Federico Massimo Ceschin presidente di Simtour ovvero società italiana dei professionisti della mobilità dolce e del turismo sostenibile buonasera presidente ben trovato come sta? buonasera qui molto bene grazie cerchiamo di affrontare questo Natale così particolare senza eccessivamente contrirci diciamo senza eccessivamente rattristarci delle occasioni perdute immaginando che per il futuro che il futuro debba e possa essere migliore di quanto lo immaginiamo ecco infatti ce l'auguriamo ci auguriamo soprattutto che questo Natale così diverso sarà l'unico Natale diverso che passeremo e quindi l'anno prossimo speriamo che questa emergenza sia terminata speriamo di poter tornare alle nostre tavolate alle nostre tombolate ieri ho sentito una cosa simpaticissima quest'anno si farà la tombola a distanza la famosissima TAD e mi è piaciuto tanto lo volevo riproporre oggi ai nostri dei spettatori giocate a TAD questo Natale però noi adesso mi sto perdendo in chiacchiere torniamo alla nostra rubrica la settimana scorsa Presidente abbiamo parlato di quella sentenza storica che arriva da Londra la sentenza per cui appunto una bambina è stato riconosciuto che la causa della morte di una bambina di 9 anni fosse l'inquinamento dell'aria ora già avevamo anticipato noi a chi ci segue tutti i giorni che è una sentenza storica che avrebbe aperto le porte a un percorso diverso e su questo percorso su questa strada adesso si sta muovendo anche Bruxelles sembra che appunto l'Europa vada verso una linea dura verso sanzioni più forti per chi inquina l'aria è così? è così assolutamente questa sentenza apre appunto la porta a uno scenario completamente nuovo da un lato per il suo contenuto intrinseco cioè il riconoscimento dell'inquinamento ambientale come fattore di rischio e come fattore che nuoce alla salute e aggrava eventualmente le patologie che le persone più fragili bambini anziani ma tutti noi in fondo possiamo contrarre e l'inquinamento viene definito come un elemento che contribuisce aggrava queste patologie e può essere addirittura causa di morte questa è sicuramente come dire la base di partenza l'altro elemento assolutamente rilevante è che questo attaccare la nostra salute attaccare la nostra vita appunto viene paragonato ormai alla lesione degli articoli fondamentali dei diritti umani e quindi come dire un attacco stesso alla vita e questo chiaramente porta la commissione europea a irrigidirsi e immaginare nuove sanzioni a fronte anche del fatto che i paesi le nazioni che fanno parte della comunità non tutte reagiscono allo stesso modo e non tutte hanno lo stesso impianto legislativo per cui immaginare che ci sia una legislazione comunitaria che livella e rende omogeneo un quadro di sanzioni sul piano europeo naturalmente diventa assolutamente rilevante Sì infatti io voglio aggiungere giusto una cosa a quello che ha detto il presidente Geskin che in Europa le sanzioni nei 27 è molto diversa tra i vari paesi i criteri per cui appunto vengono date le sanzioni la situazione delle sanzioni è molto frammentata in Francia pensate si può arrivare a 10 milioni di euro per ogni semestre di sforamento dei limiti stiamo parlando dei limiti di inquinamento dell'aria però certo è che se non si segue una linea comune una politica comune di sanzioni si fa veramente ben poco a livello generale cambiamo argomento presidente perché lei mi ha sottoposto questa settimana davanti un articolo molto interessante un articolo che si ritorna sulla questione del bonus bici noi ne abbiamo parlato diverse volte anche in maniera ironica scherzando su quella situazione su click day su quanto successo proprio per avere il bonus però ci eravamo appunto rallegrati del fatto che tutte queste persone questo interesse dimostrato dalle persone era un segnale certamente certamente positivo però l'avvocato Gianluca Santilli che è il presidente dell'osservatorio Bike Economy ha parlato mi corregga se sbaglio di un bonus figlio dell'incompetenza anche una sorta di fallimento contro l'assenza di competenze non è un'accusa al governo e non è un'accusa diciamo all'attualità o al bonus bici io non ci vedo un attacco al bonus bici la parte che di critica al bonus bici è condivisibile l'abbiamo anche già espressa da questa trasmissione da questa rubrica e vale relativamente al fatto che più che incentivare l'acquisto di bici e strumenti di micromobilità urbana varrebbe la pena incentivare l'utilizzo di questi strumenti e quindi sicuramente c'è una parte di critica che condividiamo e che sentiamo molto nostra ma la rilevanza dell'intervento del presidente dell'osservatorio Bike Economy va ben oltre perché di fatto senza mezzi termini ci dice provate a cercare un esperto di piani urbanistici della mobilità sostenibile al ministero dell'ambiente e non lo troverete o delle infrastrutture anche strutture naturalmente certo sulla mobilità incidono naturalmente diverse competenze e però ecco l'assenza a livello nazionale di una figura riconosciuta di mobility manager e comunque di un riconoscimento anche da parte del MIUR ad esempio di una disciplina della mobilità che quindi veda dei corsi di laurea dedicati che veda il costituirsi di una complessa disciplina articolata come la mobilità in figure professionali fa sì che noi dobbiamo ricorrere quando le città ne hanno desiderio e necessità addirittura a competenze straniere andiamo a prenderle in Olanda andiamo a prenderle altrove come se in Italia queste competenze non ci fossero ecco da questo punto di vista non possiamo come Sintour non essere allineati al pensiero del presidente Santilli nel senso che la nostra proposta è esattamente quella di riunire rappresentare e riconoscere le figure professionali che contribuiscono alla pianificazione della mobilità sostenibile che contribuiscono con la loro visione con la loro professionalità e con le proprie competenze a immaginare uno scenario diverso per il futuro città diverse in cui la progettazione non si è Presidente perché questa pandemia ci ha messo davanti a un futuro che è probabilmente un futuro da ricostruire diverso da quello a cui eravamo abituati abbiamo anche già parlato della questione del recovery plan che stanzia la maggior parte dei fondi alla transizione verde la transizione green e io glielo dico così magari per come segnale positivo ieri abbiamo avuto in trasmissione un esponente di Italia Viva Italia Viva si è battuta molto per la questione della governance della task force che andrà a seguire la messa in atto del recovery e in questa discussione appunto questa task force probabilmente non ci sarà più o comunque sarà ridotta l'esponente di Italia Viva diceva è giusto che si apra anche a un confronto con le associazioni di categoria ieri parlavamo nello specifico di legambiente e di eco-mafie però alla fine si può parlare si può estendere appunto questa coordinazione e cooperazione anche ad altre associazioni di categoria ci sono lo dico appunto a titolo informativo ci sono esponenti politici che vogliono aprire al confronto con le associazioni probabilmente poi vedremo nel prossimo futuro visto che questi esponenti politici si stanno imponendo per far valere il loro pensiero potrebbe anche aprirsi una strada una strada del genere certo è che la sfida del recovery è una sfida molto importante e bisogna far di tutto per creare una possibile svolta perché è possibile questa svolta questo futuro diverso? Guardi io penso sempre che il futuro è di chi lo sa immaginare per cui non mi interessano e non mi sono mai interessate i colori politici o le parti politiche normalmente quando si prende parte si smette di essere come dire obiettivi e invece noi abbiamo bisogno di essere coraggiosi e quindi non inseguire il consenso abbiamo bisogno di essere coerenti con una visione e prima di essere coerenti con una visione bisogna averla una visione di futuro per cui il lavoro che stiamo facendo come società civile come associazioni noi rappresentiamo tutto sommato una rete qui aderiscono oltre 100 organizzazioni sul territorio nazionale è chiaro che immaginiamo prima di tutto la necessità di disegnare un futuro di avere un'idea di futuro di condividere questa idea di futuro di fermarci e interrogarci approfittando di questo tempo per capire quale futuro vogliamo che paese vogliamo consegnare agli italiani di domani e questo è il momento giusto per farlo il Recovery Fund è un acceleratore è una possibilità è una grande opportunità però l'abbiamo già visto nel nostro paese che le grandi opportunità a volte vengono raccolte mi piace sempre fare l'esempio di Torino con le Olimpiadi che è riuscito a cambiare il volto della città l'immagine la percezione il vissuto la qualità della vita e magari non voglio essere troppo salace ma occasioni come Expo che avrebbero dovuto come dire non soltanto contribuire all'immagine complessiva del Made in Italy e della enogastronomia di qualità del nostro paese ma addirittura aveva l'ambizione di cambiare la visione di cibo di terra e di distribuzione del cibo nel mondo cosa che mi sembra lontana dall'essere avvenuta quindi le grandi opportunità sono sempre delle grandi sfide che occorre affrontare avendo una visione precisa avendo coerenza con questa visione e coraggio nelle scelte per cui speriamo che la classe dirigente si dimostri in questa circostanza più che mai all'altezza delle aspettative siamo di fronte a una pagina nuova bianca e quindi occorre veramente grandissima creatività ma anche pragmatismo perché le risorse potrebbero essere molte o molto poche dipende solo se si spendono bene o se si spendono male e in che tempi soprattutto Presidente perché se per fare una pista ciclabile ci vogliono dieci anni insomma alla fine non farà tanto non renderà tanto la sua utilità questa pista ciclabile che cosa sono gli iperluoghi Presidente iperluoghi sono quei luoghi che ci portano a una dimensione futura appunto della nostra della nostra considerazione di presenza di essere presenti a noi stessi alla nostra comunità e che consentono attraverso connessioni non soltanto quelle che siamo ormai abituati ad utilizzare per per distanziamento sociale ma anche connessioni di natura molto molto più come dire umana e molto più rivolta a una nuova generazione di una nuova anche modalità di interrelazionarci con l'ambiente con il paesaggio e con i luoghi che abbiamo attorno si aprono davanti a noi le possibilità di nuovi modelli di città io so che c'è una partizione comune tra quattro modelli di città acropoli irregolare leggere e contrada quale sarà quella del futuro sarà una di queste o sarà un'integrazione tra questi modelli di sostenibilità è possibile che sia assolutamente un'integrazione tra queste o che alcuni di questi modelli vengano adattati in funzione della dimensione territoriale l'estinazione urbana noi abbiamo forse l'abbiamo già detto ma il 75% della popolazione mondiale che vive nei grandi agglomerati urbani e questi agglomerati urbani occupano il 2-3% della superficie terrestre questo significa che all'interno delle nostre città per fruire di un qualsiasi servizio occorre compiere grandi distanze impegnare molto tempo aumentare il traffico e questo non è più accettabile non è più socialmente accettabile e quindi c'è una forte spinta dal basso in questo momento a immaginare questi iperluoghi come appunto dei motivi di connessione di vicinato di prossimità di comunanza e questo anche quando abbiamo insieme ragionato di urbanismo tattico significa peraltro appunto avviare delle progettazioni che rispondano alle esigenze di categorie specifiche di persone e comunque con una visione sempre orientata al bene comune e questo deve aiutarci a considerare il futuro come dicevamo all'inizio migliore di quanto lo possiamo anche soltanto immaginare bene questi sono i ragionamenti più corretti da fare in questo periodo dell'anno quando sta per volgere al termine l'anno che abbiamo appena vissuto è tempo appunto di buoni propositi di di fare un attimo di tirare un po' le somme noi lo abbiamo fatto in realtà nel corso di tutte le nostre puntate di tutti i nostri spazi di approfondimento dedicati al green presidente io la ringrazio per queste puntate le do appuntamento naturalmente appena ripartiamo alla prima settimana di gennaio grazie davvero per essere stato qui con noi per averci fatto scoprire questo mondo che a volte in maniera un po' superficiale quando si parla di green e di ambiente si pensa soltanto alla differenziata alla bici ma in realtà è tutto molto più profondo e sottile grazie a Federico Massimo Ceschini presidente della società italiana dei professionisti della mobilità dolce del turismo sostenibile grazie davvero presidente le auguro una buona serata e anche delle buone feste buona serata buone feste e tanti a voi a tutti voi grazie bene abbiamo ancora tempo per i consigli di lettura e pensieri differenti del nostro Flavio Ferraro benvenuto a questa diciamo la nostra ultima puntata dell'anno però naturalmente torneremo subito a gennaio con diciamo una nuova edizione di Ristart ma tu per questa settimana che cosa hai selezionato su che cosa vuoi porre l'attenzione dei nostri telespettatori io volevo soffermarmi sulle dichiarazioni a mio avviso sconcertanti di una gravità inaudita del primario Luca Lorini se ricordo bene il nome primario del reparto di terapie intensive dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che sostanzialmente intervistato da Repubblica ha detto che chi non si sottoporrà al vaccino anti-covid non può pretendere poi di essere curato come da dire se ti ammali poi non puoi pretendere di avere un posto o letto in ospedale allora queste affermazioni che secondo me ripeto sono di una gravità inaudita innanzitutto violano il giuramento di Ippocrate e il codice deontologico al quale qualsiasi medico deve attenersi ma poi vanno anche contro diversi articoli della nostra Costituzione oltre che sono una negazione di alcuni dei diritti fondamentali dell'uomo penso alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo cioè l'obbligo per chiunque sia esso è un terrorista un santo di essere curato ma poi tra l'altro io ravviso un'altra cioè il messaggio che passa è molto pericoloso perché c'è quasi una sorta di cioè la scienza empirica la scienza sperimentale in questo caso la scienza medica viene elevata a dogma a una sorta di divinità quando in realtà una teoria è scientifica soltanto quando è falsificabile la scienza sperimentale la scienza empirica è un insieme di ipotesi statistiche non è nulla di assoluto è qualcosa di relativo assolutamente questo perdonami se ti interrompo Flavio lo ripetono anche da diversi mesi i virologi gli immunologi anche in un certo senso a spiegare come mai ci sono diverse ci sono state per quanto riguarda questo virus lo studio delle cure ma anche del vaccino gli scienziati insomma chi è sul campo dice proprio quello che dici tu la scienza non è un dogma assoluto la scienza va avanti per tesi ipotesi dubbi che possono essere anche smentiti questa è la ricerca la ricerca scientifica questo senz'altro no? diceva Karl Popper che è il più grande filosofo della scienza del novecento cioè una teoria scientifica solo se è falsificabile quindi dire se uno non credi nel vaccino anche il termine è curioso credere si crede nel vaccino oggi non si crede più in Dio si deve credere nel vaccino vabbè se tu non credi nel vaccino non ti sottoponi al vaccino io non ti più è gravissimo un medico che fa affermazioni simili dovrebbe essere radiato dall'ordine dei medici perché però perdonami Flavio anche la proposta che ha messo sul tavolo se non ricordo male il governo di San Marino perché comunque c'è questa questione ora è lecito naturalmente avere dei dubbi essere insicuri perché appunto la cosa che suscita più perplessità sono stati i tempi in cui questo vaccino parliamo di quello Pfizer ma alla fine non è l'unico che è stato approvato qual è il dubbio più forte la cosa che genera più perplessità sono i tempi perché solitamente siamo sempre stati abituati a sapere che per un vaccino per mettere a punto un vaccino ci vogliono anni decine di anni in certi casi invece in questo caso si è trattato in un certo senso di mesi di meno di un anno meno di 12 mesi però che cosa rispondono e questo lo dico a chi ci sta ascoltando che cosa rispondono gli esperti perché questo vaccino è stato messo a punto così rapidamente perché non abbiamo avuto fatica a trovare i volontari che si sono sottoposti un esempio che ho sentito e che mi è rimasto impresso è che per il vaccino per lo studio del vaccino di Ebola per trovare i volontari ci è voluto oltre un anno per il Covid una qualcosa come tre ore sì però poi hai citato prima gli esperti Unioni che certo non può essere accusato di essere un no-vax ha ammesso candidamente che lui non lo farebbe all'inizio perché appunto non è ancora così sicuro questo vaccino visti i tempi rapidissimi in cui è stato prodotto elaborato ma poi ripeto giorni fa leggevo un'intervista al virologo Massimo Galli che sostanzialmente diceva che chi si sottoporà al vaccino godrà di certi privilegi rispetto a chi non lo farà ecco questo messaggio praticamente che passa è che chi si rifiuterà di vaccinarsi verrà condannato a una sorte di morte civile tempo fa un senatore di Alia Viva di cui non ricordo il nome praticamente diceva non ti fa il vaccino ok allora io non ti faccio entrare negli uffici pubblici nelle banche nelle scuole negli ospedali ripeto questo il messaggio che stanno facendo passare è molto pericoloso a mio avviso beh certo però è anche appunto pericoloso allora il sistema insomma le convinzioni di Novax ci sono ora ripetiamo è giusto avere dei dubbi è lecito però cerchiamo sempre di stare attenti a non sfociare in estremismi infatti lo raccontavamo qualche giorno fa nel nostro telegiornale come sta aumentando si sta ampliando la rete dei Novax a livello addirittura mondiale si parla di un qualcosa come 58 58 milioni ora appunto avere dei dubbi è assolutamente lecito farsi posti delle domande ma poi arrivare a un estremo per esempio si diceva di questa community che sta nascendo che si informa solo esclusivamente sui social ora è vero che attraverso i social si possono avere anche come si può dire degli spunti diversi magari meno mainstream però c'è anche il rischio di cadere in complottismi no Flavio certo sicuramente tra la scienza elevata a divinità a dogma intoccabile e i Novax c'è una posizione mediana che si può assumere senza altro e invece per quanto riguarda andiamo avanti perché abbiamo fatto il nostro commento della settimana che cosa hai selezionato invece per i nostri consigli di lettura per i nostri consigli di lettura diciamo degli ultimi dell'anno parliamo parliamo di cose belle adesso ho scritto un testo pubblicato da Delphi la tigre a stenza che raccoglie tutti i versi scritti da Cristina Campo una delle più grandi voci poetiche del novecento non solo italiana a mio avviso e vi leggo una poesia si poi magari ci racconti anche un po' la storia di questa autrice si certamente devota come un ramo curvato da molti nevi allegra come falò per colline d'oblio su acutissime lamine in bianca maglia d'ortiche ti insegnerò mia anima questo passo da Dio bella molto molto bella io devo dire la verità scusa l'ignoranza non avevo mai sentito di questa di questa autrice in che periodo la collochiamo nello specifico è nata nel 1923 e è morta a Roma nel 1977 poetessa saggista e anche grande tradizio una voce secondo me non troppo conosciuta e per questo noi chiediamo proprio a te abbiamo chiesto proprio a te di dispensarci questi consigli di lettura Flavio tu invece a che cosa stai lavorando stai lavorando a qualcosa di nuovo l'altra volta abbiamo parlato delle conferenze del webinar a cui partecipi immagino che per queste vacanze ti riposerai o appunto stai lavorando a qualcosa soltanto sono un po' molto impegnato con la scrittura allora nel 2021 dovrebbe uscire o prima o dopo l'estate il volume che raccoglierà tutte le mie poesie e poi continuo a lavorare adesso dai ve lo rivelo ho tradotto le poesie di un grandissimo poeta inglese di cui ancora non svelo il nome dai anche un piccolo regalo di Natale fai ai nostri telespettatori no? dai John Kips e Leopardi ce l'ho tirata ce l'ho fatta Flavio bene allora in bocca al lupo per tutto quello a cui tu stai lavorando grazie per essere stato con noi in queste puntate non temete né tu né i nostri telespettatori perché appunto noi ritorniamo subito senza indugi la prima settimana di gennaio grazie Flavio ti auguro delle vacanze serene e una buona serata grazie e buone feste anche a voi che ci avete seguito dall'inizio di questo autunno anzi quando eravamo ancora in un certo senso ancora in estate siamo partiti a settembre siamo arrivati alla fine di quest'anno torneremo a gennaio più forti e più carichi di prima io davvero non so come ringraziarvi per essere stati qui con noi ogni giorno da lunedì al venerdì alle 17 con tutti i nostri ospiti tutte le nostre rubriche tutti i nostri spazi spero che vi siate divertiti che abbiate appunto vi siate arricchiti anche avendo guardato questo questo spazio e avendo guardato questo spazio e seguito queste queste notizie insieme a me sono quasi infatti anche un pochino emozionata di salutarvi però ripeto non temete perché torniamo la prima settimana di gennaio grazie ancora ora la linea al nostro telegiornale buon Natale da tutti noi di Ristart grazie a tutti